Allora Sembra che ci siamo tutti, no? Qualcuno sta ancora arrivando? Ecco, benvenuti. Ah, c'è anche Attilio, fantastico. Ciao Attilio. Non saluto tutti. Doris, Roberta, Gabriella, mano a mano che leggo i nomi, Manuela. E mi sono preso la parola perché doveva prendere la Massimiliano, ma l'ho visto. Massimiliano, volevo che tu fossi il direttore d'orchestra. Comunque, dimmi. No, facciamo una co-direzione. Facciamo una co-direzione. Allora, io mi tolgo subito l'onore e l'onore dei saluti e dei ringraziamenti che vanno ovviamente alla nostra associazione, ad Axi, a Silvana che fa la segreteria che ci segue con tutto il sostegno, ad Alessio che fa la parte tecnica di gestione di questo webinar e alla nostra presidentessa Luisa, che è quella che lavora di più all'interno della nostra associazione, questo detto proprio senza ombra di coso. Questo incontro invece, di cui adesso Massimiliano vi dirà perché è stato lui che l'ha inventato, poi me l'ha proposto insieme a Gaia e io ho aderito all'idea di condividere. Avrà una struttura colloquiale. Noi faremo praticamente solo delle domande a cui voi siete invitati a rispondere, alzando la mano il più possibile perché è bello avere una risposta tipo verbale. e poi ci divideremo in stanze, faremo dei giochi di parole, di narrazione e alla fine in stanze ancora per un feedback diciamo tra 5-6 persone viene molto meglio che non con tutto il gruppo di 30 o di 40, sì di 30, di quanti siamo. Quindi in realtà noi porremo degli interrogativi su che cos'è quest'idea di, come dire, di connessione come ci relazioniamo con il gruppo, col progetto, che cosa vuol dire per noi e io credo che, Massimiliano, dimmi se è vero che questa tua idea di affrontare questo argomento che non è poi così popolare derivi dal fatto che tu sei entrato da poco nell'associazione AXI e hai come osservato delle dinamiche, delle cose che avvengono all'interno dell'associazione e credo tutti noi l'abbiamo fatto o prima o dopo continuiamo a farlo. Ci poniamo la domanda, ma perché siamo dentro l'associazione Canio Sacrale Italia? Giusto? Sì, sì. E la risposta magari non è univoca e soprattutto non è, e questo è il territorio che vorremmo esplorare, non è fattuale, cioè non è legata, dice ok, ho la tessera, ho gli sconti, posso partecipare ai corsi, ma è più legata a come mi muovo in questa direzione, verso quale obiettivo, qual è il senso di, non so se è chiaro, quindi non è la risposta che trovate nello statuto, ma è più la risposta che trovate dentro di voi, è quello che noi cercheremo di fare umilmente, che la prossima ora è qualcosa. Massimiliano? Sì, in effetti io non mi vedo che parlo, come al solito, però voi credo che mi vediate. Sì, stavo pensando non solo rispetto ad Axi, ma anche ad altre cose che stavo studiando, perché ora ultimamente sto studiando molto il territorio, come si forma il territorio, come si formano gli ecosistemi e quindi che tipi di equilibri si vengono a determinare all'interno degli ecosistemi, perché possono mantenere sempre intatto la vitalità e intatta l'autoregolazione. E così stavo pensando, mi è venuto da pensare, chissà se anche le comunità degli esseri umani, che sono basate, come dice, come è scritto sul libro di Capra, La rete della vita, e anche di Maturana, che è uno studioso, insieme a Varela, dei sistemi autopoietici, quelli che si autoregolano, si autoriproducono e si evolvono partendo proprio da queste autoriproduzioni. Se poteva essere anche questi principi, potevano essere riportati anche nei sistemi degli uomini, delle connessioni e del senso sociale dell'uomo, anche perché l'uomo ha un po' perso, un po' perso questa relazione di imprinting e di immediatezza con il territorio, ma usa molto spesso il linguaggio, per cui i sistemi sociali sono basati principalmente sul linguaggio. Per cui mi sono chiesto, come dicevi te Madero, dal momento che sono entrato da poco a far parte un po' più attiva dell'Associazione Craniosacrale Italia, mi piaceva conoscere le motivazioni, cos'è che spinge noi tutti operatori nel campo della biodinamica craniosacrale a fondersi, a unirsi in questa associazione? Qual è il collante? Naturalmente ci sono mille motivazioni, perché poi quando si formano, quando i gruppi umani, ma anche animali, si formano, naturalmente ognuno porta con sé la propria storia, le proprie intenzioni, i propri desideri, e non sono mai coincidenti con gli altri, con quelli degli altri. Ma poi a un certo punto siamo quasi costretti, o ci troviamo a un certo punto a perdere un po' della nostra soggettività e acquisire una connessione ed un bonding, un legame più profondo, di tipo quasi affettivo, emotivo, con quelli che fanno parte dell'associazione o della comunità. Questa era... E una delle domande che mi sono venute è ma che cosa siamo? Che cosa siamo noi come comunità, che cosa siamo noi che formiamo, noi soggetti che formiamo la comunità della biodinamica craniosacrale o qualsiasi altra comunità. Giaia, volevi dire qualcosa? Sì, buonasera a tutti intanto. Il tuo concetto di bonding mi riporta alla memoria l'entanglement della fisica quantistica e allo stesso tempo mi riporta alle mie radici che vengono dallo studio modesto del taoismo e quindi al concetto di sincronicità. Quindi diciamo questi sono degli aspetti che mi interessano particolarmente, non sono solo questi, ma che mi interessa particolarmente mettere in gioco. E allo stesso tempo come la ricombinazione dei vari elementi in qualche modo che compongono una relazione di entanglement in qualche modo determinino un nuovo orientamento, quindi una nuova storia. Ecco, ho fatto un discorso, brevi sceni sull'universo, ma insomma, questo in buona sostanza. Mi sentite bene? Perché io c'ho un ritorno qui. No, va bene. Addio, ora ho perso quello che volevo dire del bonding. Il bonding è, per chi non lo sapesse, penso che lo sappiate un po' tutti, il momento di attaccamento della diade bambino appena nato e madre. Il bonding ha una peculiarità abbastanza importante. è governato e governa la secrezione dell'ossitocina, che è appunto, a parte che è secreta dal sistema limbico in generale, ma che è appunto la parte del nostro cervello che è quella, diciamo, Sapolsky, Robert Sapolsky, che è un dio etologo, dice che è l'invenzione dei mammiferi, insomma, che è quella della maternità, del senso di maternità, ma anche l'ossitocina, sono stati fatti degli studi anche con le scimmie, ma anche con le scimmie più vicine all'uomo, insomma, le scimpanze, si trova facilmente nell'urina delle scimmie, viene trovata, specialmente quando loro si trovano e si ritrovano in gruppo insieme a fare, a spulciarsi, il grooming a spulciarsi, per cui è un'attività, è un'attività proprio legata anche all'unione, a dare un senso di unione al gruppo, anche se è fra due elementi solamente, non è... Per cui il bonding comunque diciamo che è un primo passo, rispetto al senso, all'emotività che sta dietro a ritrovarsi insieme, il bonding. Tutti gli aspetti emotivi della nostra vita, della nostra esistenza, vengono regolati dal sistema limbico. c'è l'ossitocina, ci sono le endorfine, c'è la... come si chiama? Oddio, quell'altra, quell'altra, la dopamina, che è un neurotrasmettitore, e sono tutte... riguardano tutte questo senso di unione, di vicinanza, il senso di sicurezza che si ha quando... che viene passata, viene tramandata dalla madre al figlio o dai parenti stretti al figlio, in una situazione parentale, in una situazione di piccola famiglia, insomma. Per cui... per cui è parte di noi, parte della nostra fisiologia, ecco, il... il piacere di stare insieme. Questo... questo è un altro aspetto... è un aspetto del bonding, è un altro aspetto della... del senso di... del senso di comunità, insomma. Vado avanti, Matero? Hai niente? Sì. Posso andare avanti? Io arriverei proprio alla domanda, che non voglio anticipare, perché è tutta tua, quindi... No, no, vai. Te la dico io, me ne approbio, e non vado a... No, vado a voi, siamo... No, 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 è cosa del tuo sacco. Quindi, diciamo che lui specifica meglio, Massimiliano, magari anche tu, Gaia, lo puoi connotare, questo invito a riflettere su cos'è per noi il senso di comunità. A partire da... Massimiliano? A partire da... Dici dal bonding? No. Da quella cosa che hai fatto come prima domanda quando ci siamo fatti le prove. Partire da... Partire dall'idea di cos'è il noi dentro di me. Ah, ok. Ok. A me sembrava quello il tono interessante, perché mi ha fatto riflettere per più di un giorno. Ah. la cosa. Quindi cos'è, non tanto il mio senso di comunità come appartenenza, bonding, tutto il resto, ma cos'è il noi dentro di me? E tu l'hai spiegato bene con la storia della Dei Lupi, ti ricordi? Ah, sì. Ok. Ti piace cominciare con quella? Va bene, va bene. E, Gaia, anche tu sei d'accordo? Sì. Che è un buon avviatilo? Sì. Questa storia Dei Lupi. Allora, c'è un... Il fatto che la comunità comunque rappresenti, ma anche contenga delle singolarità. Contenga delle singolarità che siamo noi, i singoli appartenenti alla comunità. Noi abbiamo dentro, vabbè, ossitocina, abbiamo dentro tutte queste cose, ma abbiamo dentro anche una cosa più importante, il senso della molteplicità. Non sto assolutamente a ridire, faccio un flash al bellissimo seminario di Jaap van der Waal sulle polarità, sullo sviluppo ambionale. C'è un momento di che siamo vegetali, un momento che siamo animali, un altro momento e siamo di nuovo vegetali, poi si ritorna animali. E cosa vuol dire? Essere vegetali è essere non fatti di singoli, ma è la come si dice, il gruppo che è una singolarità già di per sé. Noi abbiamo dentro questo senso di essere una molteplicità. In un libro di Deleuze e Gattari, due filosofi francesi, loro parlano di un signore che racconta il proprio sogno e dice di aver sognato se stesso dentro un gruppo di lupi, aver sognato i gruppi, i lupi. Freud, non so se quando loro lo citano fa parte di una storia inventata o hanno riportato la realtà, Freud dice no, ma non si può essere un gruppo di lupi, se è uno solo, se tu hai sognato un lupo e avrai sognato il tuo padre, il maschile, eccetera, eccetera, secondo la teoria freudiana. E loro continuavano a dire no, i lupi non sono mai da soli, i lupi vanno sempre in gruppo, per cui non si può parlare di un lupo, si può parlare solamente di tanti lupi, per cui anche il sogno stesso è rappresentativo del fatto che noi dentro non è che ci sentiamo dei lupi, abbiamo queste molteplicità, abbiamo, sogniamo dei grandi gruppi di persone, sogniamo noi stessi dentro grandi gruppi, oppure rincorsi da grandi gruppi di persone, oppure da, per cui ci capita di trovarci in questa polarità, io e il gruppo, io e il gruppo. E questa è un'altra cosa che mi ha fatto pensare, cioè se noi sentiamo la necessità appunto di entrare a far parte di una comunità è perché ce l'abbiamo già dentro poi, in fine cosa. No? Sì, Gaia, volevi commentare? Sì, stavo pensando alle polarità, cioè se noi proviamo a visualizzare io e la collettività come in termini di polarità, mi domando quanto, mi interessa la specularità e anche che tipo di relazione in ambito dell'orientamento ci può essere tra io e la collettività, cioè è l'io che riorienta la collettività nel momento in cui si inserisce nella collettività oppure è la collettività che contribuisce a un mio orientamento. Faccio un esempio. L'altro giorno quando abbiamo fatto la prova, abbiamo fatto una prova, ci siamo incontrati per discutere di come avremmo condotto questa conversazione oggi, no? Siamo stati tre per tanto tempo e abbiamo parlato fra di noi e c'è stato un secondo me progressivo orientamento comune dopo un po'. Ci ha voluto un pochino per credo metterci trovare una una sincronia però poi effettivamente ci siamo secondo me allineati orientati e Madaro attendeva un ospite che alla fine è arrivata Michela e la cosa interessante è stato che quando è arrivata Michela e è entrata nella nostra piccola collettività il suo ingresso ha dato una spinta propulsiva e ha cambiato molto il nostro il nostro discorso ha contribuito ha integrato e ci ha dato nuovi stimoli quindi quanto come dire che rapporto c'è fra il singolo e la collettività cioè chi orienta chi per esempio questo mi interessa molto no cioè noi noi ci uniamo perché ci conformiamo in quanto polarità ci costituiamo come comunità perché abbiamo una polarità comune no già già prima oppure perché abbiamo bisogno di dinamica costante di dinamica costante io che che appunto ho questa formazione che deriva dal taoismo e dalla medicina cinese penso alla alla vita come dinamica cioè biodinamica in questo caso però è un costante il dinamismo è un movimento il movimento è una un costante alternarsi di polarità quindi quanto la permeabilità di una di una comunità è è importante no quanto che rapporto c'è fra la collettività e il singolo cioè fra l'intero e la sua parte ecco questi sono sono input che mi sui quali insomma sto sto riflettendo molto non solo in virtù di questo incontro di oggi però in generale prima è capitata un'altra cosa che mi ha fatto sentire profondamente sola stavamo facendo le prove delle stanze e e io sono finita in una stanza virtuale dove mi sono sentita molto sola molto più sola e abbandonata del mio essere ora qui in una stanza fisica sempre da sola voglio dire e credo che questo dipenda dal fatto che mi sono sentita profondamente disconnessa profondamente disconnessa pur essendo connessa una contraddizione una contraddizione molto interessante ero molto connessa da sola in una stanza e mi sentivo assolutamente impotente quindi anche un altro elemento che credo possa essere interessante è la appunto la connessione che poi la possiamo vedere in termini di bonding la possiamo vedere in termini di entanglement la possiamo vedere in termini di sincronia o di sincronicità no? basta? Certo Madero dimmi volevi dire qualcosa scusa Madero no io avrei aperto un po' le domande magari dandoci su uno o due domande da proporre così come antipasto le scrivete giù prendete appunti no io direi che magari rispondo lanciando la mano alla nostra sollecitazione finora fatte perché c'è tanta roba che abbiamo il senso di comunità cos'è per me il noi che ho all'interno questa molteplicità che che procura no? l'antidoto alla solitudine di Gaia insomma c'è un po' di materiale per cui magari se qualcuno ha voglia io tra l'altro magari qualcuno già ha un'esperienza di vita in comunità la cosa che aveva portato anche la Michela quando ci siamo incontri e quindi magari c'è un come dire anche un un valore attuale rispetto all'idea che alcuni di noi vivono in comunità in solitudine come o in relazione di coppia come altre e quindi che a maggior ragione questo senso di comunità è molto più presente e crea opzioni chiamiamole così quindi se qualcuno vuole partecipare ora si alza la manina che è in fondo in basso nel vostro browser e vi diamo la parola un po' o Alessio vi dà la parola ecco vedo una manina Alessio dai tu la parola che io non vedo chi è mi sentite? sì non ti vediamo salve ah scusate aspettate scusate perché sto mi sono connessa dal telefono e mi metto così lo tengo in mano allora buonasera a tutti mi chiamo Giovanna Milesi volevo portare diciamo la mia esperienza non so se è quella di cui parlate di comunità io mi sono recentemente recentemente ormai è passato un anno sono recentemente rimpatriata in Italia ho passato 25 anni in Inghilterra i miei studi li ho fatti tutti in Inghilterra e avevo la fortuna di lavorare in un centro dove c'erano diverse modalità biodinamiche e ci davano l'opportunità appunto di di condividere condividere le nostre esperienze imparare l'uno dall'altro e quando sono tornata ho perso tutto diciamo perso tutto quindi è stata la solitudine c'è stato momento di di settlement non mi ricordo adesso come si dice di riembientarsi riembientarsi e praticamente niente ecco il mio scopo il mio primo punto di di riferimento è stata l'associazione crinocercale italiana perché volevo diciamo avere di nuovo quel quel contatto come come essere umano come persona ho bisogno mi sono resa conto che ho proprio bisogno di riuscire a imparare anche da altri colleghi da sentire idee condividersi anche mettersi anche mettersi in gioco magari non condividendo le stesse idee alcune volte però tutto questo comunque mi ha aiutato a crescere ad approfondire poi anche appunto approfondire il il mio approccio verso anche i clienti diciamo non so se aiuta o niente volevo solo condividere questo e quindi niente è stato è stato molto importante per me unirmi all'associazione per quel motivo io sono un lupo di gruppo sicuramente non sono un lupo solitario ma hai trovato i tuoi le tue connessioni erano locali oppure oppure di tutta l'associazione crano sacrale per il momento diciamo di tutta l'associazione avevo bisogno diciamo per ricominciare avevo bisogno di sentire anche solo quel mi ha dato diciamo conforto sapere che c'era un'associazione crano sacrale quindi con persone con che possono capire il crano sacrale e e e sapere perché punti di riferimento non ne avevo non ho amici qui che fanno la chiamo terapia lo so in Italia non si dice terapia modalità devo ricordarmela lo so lo so ma me lo rimentico comunque e quindi sì è stato proprio un punto di riferimento generale diciamo per iniziare per iniziare e anche solo sapere che c'era un gruppo che appunto diciamo aveva come base lo stesso ideale che è la una modalità crano sacrale mi ha dato quel quell'aiuto diciamo anche perché siamo essendo arrivata nel boom del covid l'isolamento è stato anche più più intenso diciamo e quindi anche solo sapere che c'era quell'associazione potendo parlare anche solo ho chiamato sì ho tirato amato la segretaria poverina e niente dice sai cercando di capire anche come funzionava qui come muovermi e tutte quelle cose quindi per me è stato importante sapere che c'era un gruppo una comunità che poteva essere che faceva poteva almeno aiutarvi con una parte di me perché poi ci sono diversi diverse parti di me logicamente ma questa era la più importante in quel momento ti posso fare un'altra domanda certo tu facevi parte cioè eri parte dell'associazione carino sacrale anche in Inghilterra immagini sì hai trovato le stesse le stesse collanti la stessa la stesse motivazioni di essere insieme sì sì quindi c'è qualcosa che ci accomuna sì che accomuna tutto sì indipendentemente dai luoghi sì esatto esatto grazie vi ringrazio grazie c'è qualcun altro no andiamo possiamo andare avanti no ci sono delle due mani ah due mani donatella decidete voi chi inizia prego cavaliere attiva il microfono di donatella grazie mille attilio ti ringrazio io innanzitutto volevo dire a la ragazza che ha parlato poc'anzi che non vedo più scusate Giovanna Giovanna ecco volevo dirti semplicemente siamo qui siamo qui tutti insieme quindi è una buona cosa che tu ti senta ti senta comunque parte di di una di una comunità no quindi personalmente ti dico mi ha toccato molto questo discorso che hai fatto e poi per quanto riguarda il senso di comunità io vabbè allora ci sto ragionando da parecchi giorni perché comunque è una domanda che secondo me ha bisogno un po' di decantare in noi no comunque in me nel senso che comunque non la trovo così così scontata e neanche semplice da dover argomentare per quanto riguarda me ovviamente quello che posso dire c'è sicuramente un qualcosa nel nostro nella nostra comunità ma penso in generale anche in altre comunità in altre in altri gruppi un qualcosa che è il nostro di personale no che parte da un qualcosa di vissuto nostro di esperienziale piuttosto di volontà o di curiosità poi il bello secondo me è quando accadono queste cose come quella di oggi dove ci si sente parte appunto di una comunità in un modo singolare perché ovviamente siamo tutte persone diverse con esperienze diverse ma di base secondo me c'è molto che condividiamo e che si può condividere quindi parto da questo pur dandomi ancora del tempo perché ogni tanto questa domanda mi ritorna e poi la accolgo e poi ci sto e poi la lascio andare ma perché io sono fatta così quindi ho bisogno dei miei tempi però mi viene da dire questo ecco per ora solo questo lo volevo condividere con voi quindi ho finito grazie niente grazie eccoci tocca a me buonasera buonasera a tutti mi chiamo Attilio mi chiamo anche Darshan in teoria il mio nome spirituale che mi porto avanti da qualche anno il nome spirituale perché io sono membro di una comunità effettivamente una comunità etico-spirituale che si chiama la città della luce una comunità di operatori olistici che si occupano appunto di discipline alternative diciamo chiamiamole così tra cui Reiki costellazioni familiari astrologia yoga e tantissime altre discipline che riguardano sia la sfera diciamo mentale emozionale sia appunto il corpo il lavoro sul corpo e quindi ho un'esperienza ormai di circa otto anni otto anni fa che c'è proprio la scelta di diventare gradualmente membro di questa comunità e diventare quindi parte proprio di questo progetto e quindi per me il senso comunità è molto molto forte inizialmente vissuto non senza difficoltà come dire un po' come può avvenire la sensazione di essere privati della propria libertà della propria indipendenza acquisendo poi invece la consapevolezza che questo anzi va a rafforzare questa libertà di azione di movimento grazie proprio al sostegno del gruppo grazie proprio alla capacità di poter trovare delle persone intorno a te ogni giorno condividere tutto quello che accade proprio secondo la regola della condivisione e quindi poter ottenere dei risultati proprio in virtù di una forza accumulata cioè la forza dei singoli che si viene a manifestare viene a crearsi coesa in un obiettivo comune che poi ovviamente lascia spazio a dei progetti e degli obiettivi singoli come quello che io sto facendo per esempio di diventare operatore di canale sacrale biodinamica per poterla portare nella mia vita e poterla portare ovviamente nella comunità in modo che se ne possano giovare oltre a me e oltre ai clienti che ovviamente poi avrò gli stessi membri di questa comunità e poterla portare ancora più fuori ancora meglio nel mondo quindi quello che io vedo nel senso di comunità è proprio la possibilità di trovare sostegno dare sostegno ovviamente agli altri ma trovare sostegno quando ci sono degli obiettivi comuni delle volontà comuni delle ambizioni comuni dei progetti anche ambiziosi come quello di poter rappresentare un'alternativa diciamo alla vita come adesso un po' il sistema ci sta proponendo più legata alla privatizzazione più l'inseguimento e la cura del proprio orticello senza badare troppo a quello che accade al di fuori del proprio orticello quindi come semplicemente si faceva in passato pensiamo ai modelli che erano le tribù e tutto quello che può essere accaduto dove c'era dove tutto quello che si otteneva era proprio all'insegna del lavoro comune del sostegno reciproco e quando io sono in off ci sarà qualcuno che sarà on per sostenermi e viceversa quando io sarò in on troverò qualcuno che sarà in off che avrà bisogno di essere sostenuto quindi la prima parola che mi viene in mente quando parlo al senso di comunità è proprio sostegno sostegno reciproco per ottenere sicuramente degli obiettivi più ambiziosi di quelli che si possa raggiungere che si possano raggiungere in modo solitario diciamo avendo lavorando diciamo a stretto contatto con altre persone che condividono ovviamente lo stesso ideale la stessa volontà lo stesso progetto la stessa utopia se vogliamo perché ovviamente c'è anche quello come termine ma come ci diceva Galeano l'utopia serve proprio a camminare a permetterci di continuare a camminare questo mi arriva diciamo lì per lì poi magari ci sarebbe tant'altro da dire però per adesso anche per lasciare spazio agli altri questo grazie posso dire una cosa alzo alzo la mano allora grazie a Donatella e grazie a Tirio e avete e anche a Giovanna qui prima avete quello che è colto dai vostri interventi era una linea comune sul concetto di collettività che in qualche maniera ci aiuta a trascendere dall'io e questa cosa mi fa venire in mente mi fa venire in mente come input e come stimolo magari di riflessione un esagramma degli CING che io mi sono andata a cercare perché come dice Donatella questi sono argomenti che hanno bisogno di essere sedimentati e forse l'obiettivo di questo webinar non è nemmeno trovare la risposta assoluta qui e ora ma è stimolarci a a riflettere su su questi su questo tema non da poco e quindi sono andata a guardare gli CING pensando che sicuramente nel libro dei mutamenti ci sarebbe stato un esagramma che potesse fare al caso di questa discussione infatti c'è infatti c'è e è l'esagramma 13 che si chiama Tung Jen che pronunciato malissimo chiaramente che però tradotto in italiano è l'associazione tra uomini che mi pareva un 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 esagramma interessante da andare a a guardare e è un esagramma interessante perché senza addentrarmi troppo non è una lezione sui CING però delle sei linee ne ha soltanto una che viene chiamata tenera o debole cioè una linea spezzata che è al suo interno ed è proprio diciamo questa linea spezzata la seconda linea partendo dal basso che praticamente simboleggia la chiarezza interiore e la chiarezza interiore è circondata dalla forza dalla forza fuori avevo fatto un disegno spero si veda ma provo a fare provo a farvelo vedere non so se non so se si vede no chiaramente no è prova a metterlo più vicino aspettate devo centrare la sinistra eccoci qua si vede eccolo lì sì eccolo lì aspettate che sono speculare e io sono veramente una una cozza ecco ecco ferma 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 lì la prima spezzata la seconda spezzata in basso ok posso allontanare ecco questo è una un 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 elemento interessante l'idea della chiarezza interiore che è circondata dalla forza e e che rappresenta l'essenza qui c'è scritto e questo è il commentario ovviamente eh di Willem Richard Willem con la prefazione di Jung io a diversi testi ho scelto questo eh mi piaceva particolarmente per l'incontro di oggi do parola a lui è l'essenza della pacifica associazione tra uomini che ha bisogno per la sua coesione di un tenero tra i molti solidi cioè di eh morbidezza all'interno della forza e eh nel commento alla sentenza la sentenza in genere di un esagramma ci dà la sua visione generale cioè ci dà come dire una visione globale e mi fermerai qui eh mi ha colpito molto perché dice eh la vera associazione tra gli uomini deve avvenire sulla base di una partecipazione cosmica non scopi particolari dell'io ma mete di tutta l'umanità producono durevole associazione tra gli uomini perciò come dice la sentenza si dice associazione tra gli uomini all'aperto ha riuscita ora quello che mi ha colpito è proprio quest'idea eh di partecipazione cosmica che in qualche maniera trascende dall'io è un po' quello che mi sembra abbia detto anche Attilio prima no e Giovanna e anche Donatella cioè il fatto del nostro individuale far parte di una comunità in qualche maniera ci amplifica e ci rende tra virgolette meno egoici meno egoisti e e allo stesso tempo passivamente attivi attivamente passivi non so se sono riuscita a rendere l'idea quindi di nuovo questo mi mi riporta mi riconduce all'idea della permeabilità dei confini che non sono soltanto i confini del territorio ma sono anche del territorio inteso in quanto tale ma dei confini del singolo della comunità questa questa permeabilità questo scambio ecco mi taccio è come è come essere sempre sulla pelle esatto esatto è sempre una soglia è sempre stare sulla soglia sulla pelle che nella medicina cinese è l'organo del polmone e dell'intestino grasso che è sono i due meridiani preposti diciamo nella loro funzione all'interno della socialità di stabilire i confini fra l'io e l'altro devono essere permeabili sì sempre sempre credo che ora si può fare questo giochino eh io direi dai si fa il giochino allora naturalmente quello quello che che rende solido solida una comunità è inevitabilmente il danzare insieme cantare insieme ma poi sono le storie e ora vi chiedo semplicemente di fare esperienza di cosa vuol dire fare una storia per cui ora ve lo facciamo vedere come un esempio noi tre poi ci si rinchiude nelle stanze e si fanno le storie dopo va bene allora la storia c'ha solo cioè noi dobbiamo praticamente mandare avanti una storia inventata di sana pianta non pensando di creare niente ma semplicemente autogenerandola lasciando che si autogeneri per cui è vietatissimo dire io o noi la prima persona singolare o plurale non si possono dire per cui abbiamo questa storia di fronte a noi e noi siamo la macchina ci si mette a disposizione della macchina che la fa andare avanti ok si usano solo solo delle frasi non finite per cui niente punto in fondo allora la frase è aperta poi lo facciamo vedere il gabbiano stava saltando da un palo all'altro e poi verso il mare e poi verso e poi verso sera l'uomo aprì la finestra e vide un copertone un frigorifero e una volpe che che guardavano il gabbiano perché il gabbiano è tornato da farsi tutto un giro e guardava a sua volta il copertone il frigorifero e la volpe ok è chiaro è abbastanza chiaro diciamo che più pazza è meglio è diviene sempre così per cui però la regola è togliere appunto la prima persona singolare e la seconda plurale l'io e il noi e lasciare open in modo tale che l'altro riprende da dove hai lasciato la narrazione e quindi c'è questo interscambio che crea la storia pur pazza che essa sia allora ci rinchiudiamo cinque minuti dalle stanze io posso tanto un minuto devo fare una cosa di sotto intanto la stanza mia andrà avanti io ascolto solo va bene noi facciamo da supervisor ma praticamente ascoltiamo va bene io un minuto allora ah c'è Donatella che vuole fare un alzato la mano come si fa? scusate mi sentite? sì mi sentite? sì sì ok no volevo solo capire una cosa ci chiudiamo nelle stanze ma singolarmente o no 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 ah ecco saremo saremo una decina per stanze ok ok no no singolarmente non lo auguro a nessuno saremo una decina per stanze non riuscivo a capire ok grazie no no vai allora io posso riportare quello che ho sentito del gruppo nonostante un po' di assenza oppure anche tu massimiliano ma noi noi siamo siamo di nuovo tutti insieme no manca Gaia no eccomi ah ok e quindi siamo tutti insieme ok tu vuoi riportare quello che dice il tuo gruppo o qualcuno del gruppo vuol dirlo direttamente qualcuno del gruppo vuol dirlo anche per me dai qualcuno del gruppo si prende l'onere di fare il capoclasse e riferire il proprio sentire il sentire del gruppo se l'ha se l'ha colto ci sono Gabriella e Donatella che hanno alzato la mano ciao Gabriella vai vado io vado va Gabriella come c'hai già il microfono Donatella ok ma allora è difficile non non fare diciamo discorsi sul sull'io nell'azione proprio anche di di dover dire qualcosa quindi di dover per forza concludere una frase per esempio no la mia difficoltà per esempio è stata questa quindi la storia è stata molto gradevole credo anche per le altre persone insieme al mio gruppo però è difficile non parlare in prima persona o con discorsi con azioni ben con concluse o concluse ecco una cosa di questo genere basta ho solo da dire questo che sensazione ti dà cioè quella è la tua la sensazione che hai quando non puoi finire una frase onestamente mi dà un senso di libertà perché capisco che non dipende tutto da me quindi lascio apertura a qualcun altro che dirà qualcos'altro quindi è proprio il principio della de-identificazione cioè quella di dare le proprie alcune delle proprie responsabilità al gruppo ok è proprio un principio di psicologia di psicologia basta non so se qualcun'altra del nostro gruppo vuole dire qualcosa ma insomma io volevo dire questo Gabriella che è prenotata Gabriella che si dà voce ok mi hanno dato voce ecco è stato divertentissimo io ero nel gruppo con Massimiliano e e devo dire che lasciare queste frasi a metà è come lasciare un po' appunto come dicevate prima un po' anche la responsabilità agli altri no? e non dovere proprio necessariamente prendersela tutta sulle spalle e però la sensazione che ho avuto io è stata di naturalezza è una cosa che cioè io l'ho sentita molto semplice e c'era proprio anche come posso dire anche un senso di fiducia di questa frase e la cosa interessante è che in un paio di volte la persona che ha continuato quella che era la mia frase era molto simile a quella che la mia mente aveva creato di poter dire no? che invece poi mi sono interrotta e quindi ho detto sì esatto esatto proprio quello sì ed è stato un'esperienza divertentissima mi è piaciuta tantissimo grazie ci sono grazie ci sono Roberta e Cinzia e Stefania ah ok anche io mi sono divertita veramente tanto perché una cosa così semplice e quasi quasi sciocca no? volendo proprio minimizzare invece ti ti arricchisce tanto e fa subito gruppo perché comunque persone che non si conoscono devono continuare in qualche modo un percorso che è iniziato e lo devono portare a compimento no? e vedere come in qualche modo si cerca di trovare un senso a quello che viene raccontato è come costruire una casa no? cioè ognuno porta un pezzetto e qualcosa viene viene portato avanti e c'è una una fine che che poi vabbè quello che era nella nostra storia alla fine è finita con un incontrare e fare gruppo quindi è stato molto bello anche come finale una cosa che ho notato mentre io facevo questa questa parte era che magari la mia mente ha voglia di concluderla e che la storia vada nella sua direzione che ha deciso e invece si deve lasciare andare affidare affidare e lasciarsi portare da quello che è l'esperienza anche di quello che arriverà a dire la persona successiva o quello che ha detto la persona precedente quindi è proprio bello cioè ti dà quella sensazione di dire oh non devo portare tutto sulle spalle da solo ma c'è qualcuno che insieme a me sta costruendo e questo è molto bello cioè sarebbe da riproporre almeno una volta alla settimana come terapia di gruppo perché è bellissimo molto bello grazie la tua curazione Cinzia ma lo posso levare io? sì lo puoi fare te ok e tu? disattiva il video c'era Stefania in realtà prima di Stefania se dobbiamo essere proprio fiscali nell'ordine rispettosi fiscali in ordine di apparizione Cinzia dai allora io sono stata nel gruppo con Massimiliano e sono entrata tra virgolette in seconda battuta per cui sono stata recuperata in un giro che era già iniziato ed è stato divertente concordo con quello che hanno detto le mie compagne di gruppo prima quello che mi che mi ha incuriosito è stata la capacità di improvvisazione e abbiamo veramente tutti quando uno improvvise si mette in scena come dice Iodoros ti tocca veramente l'inconscio parla l'inconscio quindi c'era molta libertà nel parlare fantasia e voglia di fidarsi perché non sapevamo quando toccava noi a parlare e quindi non sapevamo lì per lì che cosa dire quindi l'effetto sorpresa mi è piaciuto e il gruppo come sempre come tutte le esperienze fa grazie grazie c'è 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 ok sì adesso sì allora sì anch'io ero nel gruppo con Massimiliano è stato divertente però devo dire che è comunque una cosa anche se è fatta adesso così più sotto forma di gioco ma in realtà ti mette comunque un po' alla prova nel senso che senti di far parte di un gruppo ed è vero che è un modo anche per demandare e scaricare un po' la responsabilità ma al tempo stesso anche assumersi la propria responsabilità perché hai comunque un compito da portare avanti e al tempo stesso da condividere e fare in modo che anche gli altri lo condividano quindi cioè è un po' un discorso più di vedo come coesione del clan cioè stare tutti insieme ognuno di noi porta il proprio il proprio pezzettino la propria parte però in modo anche diciamo rispettoso però anche pensando che anche gli altri ti rispettano e questa è una cosa secondo me importante e quindi proprio un senso di partecipazione che è fondamentale insomma per portare avanti le cose non soltanto di dire bene se siamo tutti un gruppo allora qualcuno ci penserà ognuno faccia il proprio e si va avanti grazie 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 c'è qualcun altro che vuol dire qualcosa io posso? vai ascoltando tutti i commenti ma anche la mia esperienza quello che che quello che trovo interessante di questa narrazione costruzione di narrazione è sì che è vero che è un gioco chiamiamolo semplice ma non banale che serve a far a costituire un gruppo no? è quasi una prova tra virgolette di fiducia narrativa e non e non fisica no? di affidarsi al gruppo e di affidarsi all'altro allo stesso tempo è vero che ci toglie la responsabilità del completamento della storia ma io trovo anche che sia un ottimo spunto di riflessione sulla presunzione cioè sul pensiero che la storia possa essere unidirezionale e che abbia un'unica direzione che quella direzione unica è data dipende da noi che trovo una riflessione molto interessante se pensiamo che in questo caso siamo tutti operatori olistici no? dove la sospensione del giudizio non è un elemento da poco dove la capacità d'ascolto non è un elemento da poco dove il mettersi in sincronia non è un elemento da poco e e allo stesso tempo dove il silenzio riuscire a fare il silenzio necessario dentro di sé per accogliere la storia che ci si può prospettare di panare davanti e che non dipende dalla nostra volontà perché noi non governiamo niente eh credo che sia una riflessione molto interessante quindi in realtà trovo che questo sia un piccolo gioco molto semplice molto divertente tanto divertente dove però ci sia tantissima biodinamica dentro tanta 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 e tanto senso di quello che noi facciamo individualmente come comunità ogni volta che l'altro interviene ci riorienta questo anche interessante partiamo da un gatto e finiamo eh i meteorismi come nel mio nel mio gruppo è molto interessante non il meteorismo in sé ma il fatto che la storia proceda in questo senso da sola quasi da sola eh sì eh sì beh lo ritroviamo è vero è un principio biodinamico la sincronizzazione la come si dice tuning l'accordo l'armonizzazione si parla di sincronizzazione della respirazione con la respirazione primaria si parla di armonizzazione dei sistemi dei sistemi nervosi autonomo vagale eccetera eccetera per cui insomma siamo siamo in quell'ambito ah sì e visto che siamo quasi alla fine avrei piacere di di se si poteva pensare un po' veramente in in base a cosa ci possiamo definire la comunità biodinamica che cosa siamo di nuovo insomma e se si poteva fare questa piccola condivisione io non so Madero se c'è possibilità di farlo a stanze ora ma io direi di sì non so perché con le stanze c'è un po' più di intimità no forse è più facile parlare condividere eccetera io devo dire solo due cose che così tipo teorico che inquadrano il tema della 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 comunità uno la domanda fondamentale è chi è il noi dentro di me quali sono i tanti lupi che ho dentro o i tanti i tanti noi quindi mettersi dal punto di vista del noi è un esperimento interessante e farsi questa domanda l'altra cosa che quando parlo di senso e Mazziniano dice voglio parlare del senso di comunità io mi ricollego sempre ai dodici sensi di Steiner che ho trattato in passato qualcuno di voi conosce qualcun altro no comunque il senso di comunità all'interno di questo schema dei dodici sensi di Steiner che sono sensi corporei quattro corporei quattro animici e quattro spirituali io lo ritrovo nell'ultimo senso nel dodicesimo senso spirituale che è il senso dell'io e che vuol dire secondo l'antroposofia la capacità di riconoscere l'io cioè l'essere dell'altro quindi io acquisisco la mia come dire individualità spirituale nel momento in cui riconosco la spiritualità e l'essere dell'altro interessante come cosa e quindi questa è l'unica cosa teorica che riesco a collegare al senso di comunità e quindi quando andiamo alle riunioni d'ora in poi ci mettiamo lì e diciamo come siamo noi come stiamo con noi dentro e quanto io riconosca nell'altro questa qualità di essenza questa capacità di riconoscere l'essenza al di là di tutti i nostri diciamo no le varie nostre croste corporeità abitudini qualunque altra cosa sia bene io direi che visto che mancano ancora una decina di minuti poi ci rivediamo tutti però dieci minuti magari bastano perché loro condividano un po' di idee le domande sono fondamentali ecco com'è per voi la comunità crano sacrale cioè quali tipo di collante valori perché ci state perché insomma no sì va bene fate così con la testa come si definisce auguri allora sicuramente ci ritroveremo nelle stanze e tra sette minuti tra sette minuti insieme dai vai vai allora è il momento dei saluti perché io credo che le conclusioni stiano solo nelle mani del buon Dio e di qualcun altro credo che noi volevamo offrire degli spunti di riflessione in parte mi sembra ci siamo riusciti e questo era il nostro intento diciamo e di muovere un po' questo senso di comunità al nostro interno che allarga lo spazio non solo a cos'è la biodinamica perché la facciamo o i vari webinar cioè tra l'altro il il 19 aprile ci sarà Caterina Ucleia che parla del cervello nella pancia Caterina è una bravissima biodinamica osteopata inglese venuta spesso in Italia insegnare e ha sempre degli insegnamenti molto interessanti quindi tutte cose che noi offriamo a favore della nostra crescita individuale però dietro questa c'è un po' quello di cui abbiamo parlato oggi questa nostra appartenenza come si manifesta come la sentiamo dentro e poi come la metteremo fuori nell'ambito giusto Massimiliano nella concretezza dei nostri incontri delle possibilità che abbiamo di come comunità di di agire esatto vuoi chiudere in bellezza? voglio chiudere in bellezza no 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 in bellezza mi sembra che è stata un'ora e mezzo bellissima per cui no poi volevo ricordare che c'è la prossima incontro e anche Remo Rostagno se l'hai già detto? no a maggio c'è Remo per la nostra serie di seminari con i con i docenti con gli istruttori con l'orientamento del cuore nella biodinamica che è un sacco certo e niente io saluterei tutti eh sì sì quindi potete adesso Alessio ci libera tutti i microfoni per cui potete fare tutti i rumori che volete o i suoni o le come si chiamano quello che è dovrebbe succedere perché lui sta chiudendo la registrazione esatto questo è il momento in cui facciamo un po' di casino ciao ciao grazie mille ciao grazie interessante grazie molto alla prossima ciao grazie ciao 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 grazie ciao ciao non ti vedo eccomi ti ha fatto una domanda quindi te l'ho scritta anche in chat non so se scusami io guardavo voi non guardo guardo subito è una cosa banalissima era in merito al all'esagramma 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 dimmi se posso no se se potevi fare una foto se a meno oppure metti il nome lo cerchi su in rete no? sì allora cercate cercate l'esagramma numero 13 13 perfetto ok è l'associazione tra gli uomini ok grazie mille grazie a voi grazie e poi se avete modo dateci un'occhiata a tutti perché sono molto belli bene grazie ciao buona serata grazie mille ciao sì sono a Roma sono a Roma riconosco lo sfondo Romano gli auguri ci si vede ci vediamo presto grazie Massimiliano grazie tantissimo grazie a voi e gli ultimi avvistuti ok ciao ciao buona serata a tutti grazie ciao grazie a voi eccola